Sul caso dell'incidente di Giffoni-Vallepiana, al netto della tragedia e dell'emergenza che riguarda la sicurezza sulla strada, l'UGL di Salerno tiene a sottolineare l'importanza di tutelare gli autisti dei bus di linea. Uno di essi, infatti, è coinvolto in prima persona, indagato per la morte del 18enne. Oltre al dolore di una vita spezzata e di una famiglia, le loro parole, che finisce nello sconforto per la perdita del proprio caro, molte volte non si fanno i conti con quello che c'è dall'altro lato della medaglia. Un lato che a volte racconta una storia che quasi sempre viene raccontata di sfuggita. Autista, negativa all'alcol test, attento alla guida e senza alcuna responsabilità sull'incidente accaduto. Quello che viene dopo lo sanno in pochi, sospensione della patente e del titolo abilitativo. Qui per il lavoratore inizia l'incubo economico e sociale. In primis tocca all'operaio pagarsi un avvocato, in primis tocca al dipendente pagarsi un avvocato. E fino a sentenza definitiva le spese vanno anticipate perché l'azienda non sborsa un euro. Successivamente, se la realtà lavorativa è di quelle importanti, il lavoratore viene messo in ferie o sospeso senza stipendio perché la società non può permettersi di adibirlo ad altra mansione. Così si costringono persone alla pensione anticipata o al licenziamento. Un danno biologico e morale che equivale alla morte sociale. Tutto questo accade anche se il dipendente in pensione non ha responsabilità sull'incidente e viene accertato dalle indagini nell'immediatezza dei fatti. Anche per Carmine Rubino, segretario generale dell'UIGL di Salerno, serve un cambiamento culturale e legislativo sulla vicenda. C'è necessità, dice, di un diverso modo di gestire queste situazioni anche dal punto di vista assicurativo altrimenti si registrerà sempre una doppia tragedia, quella di chi muore e quella di chi si vede morire per colpa dello Stato.